Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Corre di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Oggi è il mercoledì delle ceneri, abbiamo osservato il digiuno e l'astinenza, spero che tutti abbiamo potuto partecipare alla celebrazione per l'imposizione delle sante ceneri in cui abbiamo ascoltato quelle parole drammatiche, vere e nello stesso tempo che ci fanno prendere coscienza della nostra povertà umana e dunque ricordati che sei polvere e in polvere ritornirai, oppure convertiti e credi nel Vangelo. Quindi oggi abbiamo iniziato la Santa Quaresima con questa celebrazione penitenziale e sicuramente tutti i sacerdoti vi hanno esortato alla preghiera, alla meditazione della parola di Dio, al digiuno e alle opere di carità. Dunque queste sono le quattro opere da compiere in questo tempo forte della Quaresima per prepararci adeguatamente alla Santa Pasqua dove contempleremo tutto il mistero della gloria di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione. Un saluto a tutti voi che siete qui in diretta. Dunque Saluto a Rosalo Piccolo, Gina Schiavo, Michele Grassoni, Rosa Cioce, Giovi Mancino, Laura Pezzera, Flora Pepe, Giulio Pusceddu, Franca Bottaro, Silvana Marsiglia, Banda Barbieri, Alessandra Fusca, Dina Rea, Francesco Cavalluzzi Pimpo, Maria Enza Birone, Caterina Francone, Flora Pepe, Meri di Corico, Giovanna Chiapparino, Giuseppe Elisa Di Masi, Maria Concetta Innocente e Costanza Capomolla, Cristina Capelli, Santina Lamacchia, Daniela Montalbano, Silvana Marsiglia, Elisabetta Maria Charlie, Maria Barbieri, Gianni Ennerita Bruno, Rosa Cioce, Giussi Cocco, Salvo Scardaci, Imma Pagano, Annalisa Zanini Chicca, Rosalia D'Alcamo, Chele Cristina Piccoli, Francesco Lavalle, Alessia Gianfelice, Angela Sicari, Iuliana Dobos Budau, Michele Adamo, Francesco Carbone, Teres Zibi, Marina Guerrera, Anna Maria Lobbianco, Grazia Teresa Muratore, Rossi Fulvo, Alessia Mancino, Rapisar Di Cinzia, Lidia Chirico, Anna Maria Matera, Andrea Roxana Scalisi e tutti voi siamo in tanti. Ecco, ci ritroviamo questa sera in questo clima penitenziale per leggere ancora una volta il Catechismo della Chiesa Cattolica dove si spiega il Sesto Comandamento, cioè non commettere adulterio, ma sappiamo che la Chiesa ha allargato questo comandamento a non commettere atti impuri e ci sono tanti che dicono che la Chiesa ha in qualche modo falsificato il Sesto Comandamento che appunto nella sua proposizione dell'Antico Testamento era non commettere adulterio. Non è così perché la Chiesa ha ricevuto da Cristo per mezzo dell'assistenza dello Spirito Santo il mandato di insegnare la verità tutta intera poiché lo Spirito Santo aveva avrebbe portato la Chiesa a comprendere sempre più profondamente la parola di Dio e dunque nel Nuovo Testamento spesso si parla dell'impudicizia, delle impurità sessuali, di tutte le cose che non vanno bene riguardo alla corporeità quando vengono vissute in modo distorte in rapporto al progetto che Dio ha sull'essere umano e dunque non commettere atti impuri è ancora più completo del comandamento non commettere adulterio perché lì si tratta di un aspetto soltanto della sessualità invece nel non commettere atti impuri si tratta della santità propria del corpo che come dice San Paolo è divenuto Tempio dello Spirito Santo e dice ancora sempre l'Apostolo Paolo che distruggerà il Tempio dello Spirito Santo che egli è Dio distruggerà lui ma non in senso che Dio vuole punire quelli che distruggono il Tempio che essi sono dello Spirito Santo sono le conseguenze proprie della distruzione che gli stessi uomini hanno fatto di se stessi dunque andiamo a comprendere ancora più profondamente questo comandamento sempre attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica. Questa è una materia molto delicata della sessualità quindi cercherò di trattarla nel modo più giusto più puro possibile anche se bisognerà affrontare appunto degli aspetti che sono un po' scandalosi e non ho piacere a parlare di queste cose però bisogna parlarne perché purtroppo si parla in modo sbagliato della sessualità aiosa in televisione poi si trova su internet su youtube sappiamo quanti videosceniche ci sono e come i bambini ragazzi e giovani ne parlano in modo scorretto magari anche a scuola oppure per la strada e tante volte neanche i genitori sanno affrontare bene questo argomento quindi ne parleremo da cristiani cattolici così come ce ne ce ne parla il catechismo della Chiesa Cattolica e quindi io cercherò di avere un'attenzione particolare a parlarne nel modo più più santo possibile anche di questo aspetto della sessualità pur quando si tratta di questioni che vanno fuori del progetto di Dio ed ecco che siamo giunti a questo punto 2352 e dunque la masturbazione vediamo cosa ci dice il catechismo della Chiesa Cattolica per masturbazione si deve intendere l'eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo ecco questo è uno dei problemi seri del nostro tempo cioè la sessualità ha una finalità fondamentale o meglio due la piena comunione tra l'uomo e la donna e la procreazione il tempo attuale che cosa ha fatto ha distaccato l'aspetto unitivo e procreativo basandosi soltanto sull'aspetto edonistico cioè del piacere quindi la sessualità viene vista spesso nella stragrande maggioranza dei casi da come viene proposta nei mass media come un puro esercizio per trarne piacere dal proprio corpo questo è sbagliatissimo perché il corpo diventa una cosa un oggetto mentre il corpo non è un oggetto che noi abbiamo il corpo siamo noi stessi e il corpo ha un linguaggio suo proprio specialmente nell'aspetto sessuale così come dio ha voluto che l'uomo e la donna divenissero una carne sola e fossero fecondi di vita e così come cristo ha voluto che questa unione divenisse un sacramento non ossi separare l'uomo ciò che dio ha unito l'uomo deve attenersi a questa volontà divina riguardo al proprio corpo invece spesso nel nostro tempo il corpo viene visto soltanto come uno strumento per trarne piacere questo fa sì che distaccato dalle due dai due significati fondamentali l'essere umano e si autodistrugge perché utilizza appunto il corpo in modo completamente distorto e poi si crea delle ferite a livello psicologico affettivo a relazionare che portano all'infericità perché in definitiva che cos'è il peccato e in questo caso il peccato sessuale il peccato è uno un sbagliare l'obiettivo della propria vita ecco il termine con cui nella bibbia si indica il peccato cioè chattat vuol dire l'atto dell'arciere di scoccare una foro una freccia e di sbagliare l'obiettivo dunque chi compie un peccato sbaglia il significato fondamentale della propria esistenza cioè in quell'atto sbaglia pensando che lui si realizza così come molti pensano di realizzarsi esercitando in modo indiscriminato la sessualità e invece si autodistruggono vediamo cosa dice ancora il catechismo sia il magistero della chiesa nella linea di una tradizione costante sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato dunque non è un peccatuccio la masturbazione la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato dunque essendo materia grave la masturbazione può essere anche peccato mortale come vi ho ricordato in dirette precedenti per combiere un peccato mortale serve la materia grave la piena avvertenza e il liberato deliberato consenso la materia grave c'è la piena avvertenza se si sa quello che si sta facendo e il liberato consenso se si vuole fare e si fa un qualcosa che dio dice che non va bene dunque è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato qualunque ne sia il motivo l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità così come abbiamo spiegato prima il godimento sessuale vi è ricercato al di fuori della relazione sessuale richiesta dall'ordine morale che cos'è l'ordine morale cioè il giusto comportamento dell'uomo secondo la verità del proprio essere se si va fuori della verità del proprio essere si diventa immorali e si compie un'azione immorali quella che realizza in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana dunque queste sono le due significate fondamentali nell'atto sessuale una mutua donazione che per noi cristiani cattolici si ha soltanto quando i due già si sono donati in matrimonio e dunque è sceso lo spirito santo e ha fatto dei due un unico un'unica realtà e poi la procreazione cioè la sessualità sessualità dio l'ha creata per mettere al mondo nuovi esseri umani nuove creature fatte d'immagine e somiglianze di dio e non per darne un puro e mero piacere che alla fine poi lascia veramente l'amaro nel cuore al fine di formulare un eco giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti e per orientare l'azione pastorale si terrà conto dell'immaturità affettiva della forza delle abitudini contratte dello stato d'angoscia degli altri fattori psichici o sociali che possono attenuare se non addirittura ridurre al minimo la colpevolezza morale ecco qui il catechismo cerca di entrare veramente nello stile della misericordia per vedere fino in fondo quanto si sia responsabile nel momento in cui si cade in questo peccato ripetiamo questo punto del catechismo al fine di formulare un eco giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti e questo chiaramente riguarda principalmente noi sacerdoti che dobbiamo ascoltare tante volte questi peccati e dobbiamo saperli anche giudicare e chiaramente valutare bene e dare poi le penitenze adeguate a coloro che il compiono e per orientare dunque l'azione pastorale si terrà conto dell'immaturità affettiva come ci può essere nei ragazzi o alcune volte anche nei giovani perché oggi veramente i giovani sono molti immaturi sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista affettivo della forza delle abitudini contratte perché una persona chiaramente che si è confessata magari dopo molto tempo e che purtroppo aveva questa cattiva abitudine che è un vizio anche no vizio della lussuria della masturbazione bisogna valutare questo aspetto e cercare di aiutare pian piano la persona a uscirne fuori dello stato di angoscia o degli altri fattori psichici perché ci sono persone che veramente soffrono a livello psicologico e questo diventa come una specie di valvola di sfogo ma ciò non lo giustifica assolutamente nel fatto di essere un peccato come abbiamo detto prima intrinsecamente gravemente disordinato diciamo che questi fattori possono attenuare o addirittura ridurre al minimo la colpevolezza morale pur rimanendo però sempre un peccato chiaramente la persona che non esce fuori da queste situazioni rimarrà sempre una persona gravemente immatura riguardo a questo vi voglio leggere un qualcosa di sconcertante che è stato emanato dalla comunità europea e vediamo come si va avanti con l'autodistruzione della nostra cultura nell'aspetto specialmente morale ecco grazie 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 c'è stato un problema con l'audio e l'ho visto troppo tardi la segnalazione che non si sentiva, infatti abbiamo perso un sacco di amici venendo meno l'audio. Allora, ritorniamo, quindi stavamo parlando della masturbazione, come vi dicevo oggi siamo arrivati in un punto veramente spaventoso, non soltanto questo peccato si compie in modo diciamo così personale e individuale, ma adesso vi sono delle normative europee che vogliono far sì che i nostri bambini siano completamente corrotti nella loro semplicità, nella loro purezza, nel loro aspetto sessuale, dai 0 a 4 anni, cioè in una normativa europea si dice che bisogna insegnare nelle scuole ai bambini da 0 a 4 anni a masturbarsi, questo è il senso. Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha disapprovato questa normativa europea, la bocciata, eppure i neo-europeisti hanno detto che questa è una vergogna, è una cosa retrograda bocciare questo tipo di normativa. Cosa comprende questa normativa? Comprende proprio questo, che i bambini si debbano toccare nelle parti intime e che magari anche gli insegnanti devono educare questi bambini diciamo a masturbarsi da 0 a 4 anni, quando ancora non c'è neanche lo sviluppo della propria sessualità. Leggiamo questo articolo che è stato fatto. C'è da chiedersi se davvero un genitore permetterebbe ad un insegnante di toccare il proprio bambino e non per purirgli il culetto, ma per eccitarlo sessualmente e fargli comprendere quale piacere può dargli il proprio corpo. Stiamo parlando di una normativa europea, ma dubbio che queste teorie educative possano riscuotere grande successo. E purtroppo invece in tanti queste teorie educative lo stanno avendo il successo. Vado un po' avanti. Non si pensi però, prosegue la nota, che tali teorie non trovano già il consenso e l'applicazione negli asili italiani. E notizia, dice l'articolo di questi giorni, ma è questo articolo di qualche mese fa, infatti che ben 45 asili di Trieste praticano il gioco del rispetto, in cui i bambini devono scoprirsi toccandosi reciprocamente ai genitali. Capite dove siamo arrivati? Da 0 a 4 anni i bambini devono scoprirsi e toccarsi reciprocamente ai genitali, cioè vengono educati alla corruzione e alla depravazione fin da piccoli. Così non saranno sicuramente in grado di farsi una famiglia, saranno traumatizzati nel loro aspetto affettivo sessuale, saranno persone che frustrate avranno sicuramente più possibilità di cadere nella depressione e nella schizofrenia e forse qualcuno di loro anche giungerà al suicidio. Siamo arrivati a questo punto e molti non sanno. Questa è una normativa europea che già viene applicata in diversi paesi dell'Europa, tant'è che alcuni genitori in Germania che hanno rifiutato questa vera e propria porcheria depravata, sono stati arrestati, si sono fatti 40 giorni di carcere. Siamo arrivati a questo punto, cioè al punto che c'è una dittatura che vuole imporre delle teorie che non posso che definire sataniche, diaboliche. Cioè sembra proprio il demonio che vuole insegnare ormai a tutta l'Europa come depravarsi completamente. Sodome e Gomorra ormai è in mezzo a noi, il satanismo e le orge ormai sono in mezzo a noi e vogliono essere applicate anche con le leggi. Dunque, è questo solo l'ultimo dei tanti casi che sempre più frequentemente vengono l'ha scoperto grazie alle denunce di genitori sdegnati. Dice l'articolista, non entro nel merito scientifico di certe teorie, io vi entro, non hanno nulla di scientifico, sono soltanto una produzione di menti depravati e di menti ormai invasate da satana. Questo, non abbiamo altre spiegazioni. Intanto, che che ne dica l'Europa? L'educazione dei figli è di dominio esclusivo delle famiglie, così come sancito sia dalla Costituzione italiana che dalla dichiarazione universale dei diritti umani, che però, come vi dicevo, è stata ampiamente disattesa dalla Germania che ha fatto arrestare alcuni genitori che non volevano che i loro figli venissero depravati nella fanciullezza. Imporre qualsiasi teoria o metodo educativo è una grave violazione del sacrosanto diritto alla libertà educativa delle famiglie. Dunque la famiglia ha il diritto, dovere, di educare i propri figli e lo Stato deve aiutare la famiglia in questo compito, non sostituirsi alla famiglia. Dunque lo Stato è a servizio della famiglia, non la famiglia a servizio dello Stato. Quando la famiglia viene asservita allo Stato, siamo in una dittatura, una vera e propria dittatura, che viene definita del pensiero unico o del relativismo assoluto. Vascendendo nello specifico di quanto proposto dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stiamo parlando, degli standard europei per l'educazione sessuale, mi sembra folle credere nella necessità di far conoscere il sesso a dei bambini i quali certamente preferiscono giochi più candidi e spensierati, come già la nostra esperienza ci suggerisce. No, non c'è niente da dire, è inutile che si cercano giustificazioni o cose, qui siamo ad una satanizzazione dell'Europa, tutto qui, poiché i satanisti fanno le orge e nelle orge portano anche i loro bambini, fin dalla tenerissima infanzia, e li rendono posseduti da Satana e completamente depravati, specialmente nell'aspetto affettivo-sessuale, ed è quello che sta avvenendo oggi in Europa dentro le scuole. Ecco, quindi dicevamo che la masturbazione è sempre un atto intrinsecamente cattivo ed è sempre un peccato grave, perché è sempre materia grave, magari non può essere imputabile a secondo delle situazioni. Però io vi dico carissimi genitori, nonni, nonne che siete in ascolto, andate a vedere cosa insegnano ai vostri figli nelle scuole. Oggi in diverse città d'Italia alcuni genitori si stanno organizzando per fare le cosiddette scuole familiari, che sono consentite dalla nostra Costituzione, grazie a Dio, e dunque due, tre, quattro famiglie si mettono insieme e assicurano l'educazione dei loro figli con i programmi scolastici approvati. Così si è sicuri di insegnare ai propri figli quello che si vuole, perché ormai nelle scuole non fanno altro che distruggere la gioventù con questo insegnamento completamente fuori dalla morale cristiana, dalla morale pure umana. Siamo veramente fuori da qualunque tipo di morale. Siamo caduti nella totale immoralità. Chiaramente ci sono tanti insegnanti, come ho detto tante volte, che fanno il loro dovere, che hanno tanta moralità, che si impegnano e lo fanno come una vocazione, però tanti altri purtroppo non lo fanno più con questo stile e con questo impegno, senza parlare poi dei dirigenti scolastici che, pensandosi illuminati, perché abbracciano le ultime novità che arrivano dall'Europa, che ormai è guidata veramente da persone senza cervello e corrotte nella loro moralità e vogliono far diventare la loro depravazione e la loro corruzione una cosa universale dell'intera Europa. Non lo permettiamo, non lo permettiamo perché saremo responsabili e anche in questa tornata politica, carissimi amici e amiche, attenzione a quello che noi andremo a fare quando metteremo la X, perché se voteremo dei partiti dove al Parlamento hanno proposto i matrimoni multipli, tra più donne e più uomini, hanno proposto la bestialità, cioè i matrimoni con le bestie e poi ne dovremo rispondere grandemente e gravemente davanti a Dio, attenti a quello che facciamo, perché quella X pesa molto, quella X che mettiamo, noi dobbiamo assolutamente lottare per la famiglia, la famiglia è nel progetto di Dio, al di fuori della famiglia Dio non ha pensato nessun altro tipo di unione tra gli esseri umani, comunione stabile, feconda di vita e di grazia, la famiglia tra un uomo e una donna, la famiglia feconda di vita, la sessualità vissuta all'interno della famiglia come dono reciproco per la piena comunione dell'uomo e della donna, dono sponsale e per la fecondità della vita, per la procreazione di nuovi esseri umani, fatti a immagine e somiglianze di Dio. Bene, andiamo avanti nella lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica. Al punto 2353 la fornicazione è l'unione carnale tra un uomo e una donna liberi, al di fuori del matrimonio, ecco questa si chiama fornicazione, potremmo citare ad esempio i cosiddetti rapporti prematrimoniali che molti giovani pensano che non siano peccato perché si amano, dicono loro, in realtà non è amore, si tratta di fornicazione, di trarre piacere dal corpo della propria fidanzata o del proprio fidanzato e poiché si è chiusi alla piena comunione perché non c'è una unione stabile, duratura, santificata dallo Spirito Santo e non c'è neanche la volontà di procreare, si tratta di un peccato grave, può essere un peccato mortale e chi compie questi di peccati non può fare la comunione, si deve confessare e deve impegnarsi a non commetterlo più, proporsi a non commettere più questo peccato. I fidanzati o anche le persone che non sono fidanzate e che compiono questo tipo di peccati e poi si accostano al sacramento della comunione commettono anche sacrilegio oppure se non confessano questi peccati, oppure se non hanno, diciamo, la volontà di non commettere più questi peccati e si confessano, commettono sacrilegio della santa confessione e quindi vanno con un peccato e se ne escono con due e poi con il sacrilegio della comunione con tre peccati gravissimi, tre peccati che possono essere mortali. Essa è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana naturalmente ordinata sia al bene degli sposi sia alla generazione e all'educazione dei figli. Inoltre è un grave scandalo quando vi sia corruzione dei giovani e voi capite oggi che, come ho detto in altre trasmissioni, ci sono dei sindaci che hanno fatti i cosiddetti parchi dell'amore, che di amore non hanno nulla, sono parchi di vera e propria prostituzione giovanile dove magari possono accadere pure episodi di orge fra i giovani, di scambio di partner e così via. Siamo a Sodome e Gomorra, d'altronde la Madonna ce l'ha detto, stiamo vivendo in un tempo peggiore di quello del diluvio universale e se quelli del tempo di Noè erano corrotti e sono stati sepolti dalle acque perché non c'era più possibilità di recuperarli e se quelli di Sodome e Gomorra sono stati bruciati con del fuoco che scendeva dal cielo, che Dio ci liberi da quello che ci aspetta se questa umanità non si convertirà. Dunque la fornicazione e l'unione carnale tra un uomo e una donna liberi al di fuori del matrimonio, liberi, altrimenti se uno dei due è sposato si tratta di adulterio chiaramente, che è ancora più grave, molto più grave l'adulterio. Al numero 2354 si parla della pornografia, essa consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi. Oggi purtroppo a causa della pornografia ci sono tanti matrimoni che vanno in rovina, anche perché poi specialmente i mariti, alcune volte anche le donne, guardando questi film pornografici o questa pornografia pura, poi pretendono dal partner, dalla moglie o dal marito quello che hanno visto fare in queste schifezze e chiaramente trattano poi la moglie o il marito come una prostituta o un prostituto. E tante donne, specialmente le donne, devono subire delle vere e proprie violenze sessuali da parte dei mariti per cercare di mantenere insieme la famiglia. Però vi dico che nessuna donna deve farsi trattare come prostituta all'interno del matrimonio. Quindi questa è una cosa importante perché magari non ci si può negare al marito dal punto di vista dell'unione normale che può avvenire nel matrimonio, aperta alla vita sempre. Ma assolutamente ci si può negare al marito se questo pretende una forma di prostituzione della moglie e di atti che offendono gravemente la dignità della persona umana e della dignità della donna. Dunque la pornografia offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi. In ogni caso la pornografia crea anche della dipendenza e molte persone ormai sono degli schiavi della sessualità e devono disintossicarsi come una vera e propria dipendenza da una sostanza tossica e non sono in grado neanche di relazionarsi più in modo sereno con la persona dell'altro sesso anche dello stesso sesso perché quando si deprava la sessualità si distrugge l'affettività e poi diventa veramente un calvario per quella persona riuscire a relazionarsi in modo normale con l'altra persona perché avrà sempre in testa questo tumore di questa sessualità e affettività malata e depravata. Senza contare quello che ci dice Gloria Polo che quando si commettono questi atti sessuali al di fuori del matrimonio in modo depravato e in modo impuro gli spiriti maligni si attaccano persino alle parti intime oppure all'ipotalamo, al cervello e fanno sì che quella persona abbia un continuo desiderio di atti sessuali e così poi diventano anche unioni promiscue e tutto quello che avviene fino a quando magari la persona poi non si ammala anche di qualche malattia grave, la sifidide oppure l'AIDS o l'epatite C rischiando di morire oppure attaccando la malattia alla propria moglie o al proprio marito se ha avuto rapporti al di fuori del matrimonio. Lede gravemente dunque la dignità, la pornografia di coloro che vi si prestano attori, commercianti, pubblico. Quindi tutti coloro che partecipano a queste porcherie perdono la loro dignità, l'hanno gravemente ferita poiché l'uno diventa per l'altro oggetto di piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale. È una colpa grave, le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici e invece adesso che cosa sta succedendo? L'altra volta per esempio, se non ricordo male, a Bologna venivano proiettati film pornografici su maxischermi in piazza dove passavano tutti, anche i bambini, anche i bambini. Voi pensate delle amministrazioni comunali che fanno proiettare delle pellicole pornografiche nelle piazze e siamo arrivati all'assurdo. Veramente Sodoma e Gomorra è in mezzo a noi, non so che dire. Non trovo le parole per dire la mia indignazione riguardo a questa schifezza che purtroppo oggi anche le autorità civili stanno compiendo, come vi dicevo prima, i parchi dell'amore dove i giovani vanno ad avere rapporti sessuali nelle macchine o anche per terra e così via. E poi questa schifezza della proiezione di pellicole pornografiche in piazza o ancora anche delle mostre sulla pornografia e sulla sessualità. Veramente qualcosa di assurdo. Siamo giunti al punto 2355. La prostituzione. Ecco, quindi prima abbiamo parlato di partiti, non voglio fare i nomi, penso che riconosciate, no? Che hanno parlamentari che propongono in Parlamento i matrimoni multipli tra cinque donne, tra tre uomini e due donne, matrimoni multipli, tra più persone, non tra uno meno donna e neanche tra due uomini e due donne, che è già un qualcosa di abominevole, ma proprio siamo arrivate alle orge. E poi, sempre di questo stesso partito, un altro parlamentare che ha detto, ha fatto la proposta dell'unione dell'uomo con gli animali, che si possa sposare gli animali. La bestialità. E poi c'è un altro partito che è a favore della prostituzione, cioè vuole mettere la partita IVA sulle prostitute, così tante delle nostre ragazze e anche dei nostri ragazzi ormai, che non hanno lavoro, possono scegliere di aprire una partita IVA e di vendere il proprio corpo, cioè di fare per mestiere le prostitute o i prostituti. È qualcosa di assurdo. Vediamo cosa dice il Catechismo sulla prostituzione. La prostituzione offende la dignità delle persone che si prostituisce, ridotto al piacere venereo che procura. Colui che paga pecca gravemente contro se stesso. Dunque pecca sia a chi si prostituisce, sia a chi usufruisce della prostituzione di un'altra persona. Viola la castità, alla quale lo impegna il battesimo e macchia il suo corpo. Io vorrei dire qualcosa di più, non solo il battesimo impegna la castità, veramente la stessa natura umana impegna la castità, perché siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, che è puro, santo e casto. Quindi il battesimo molto di più, ma anche direi che la persona già per il fatto di essere immagine e somiglianza di Dio è tenuta la castità e il corpo è tempio dello Spirito Santo, per i batteggiati chiaramente. La prostituzione costituisce una piaga sociale. Chi è che ha saputo dare una risposta veramente adeguata alla prostituzione? Don Benzi, ecco, Don Benzi sì, che andava per le strade e ha tolto centinaia e centinaia di prostitute, se non migliaia, dalle strade, dando loro poi un lavoro dignitoso. Questo bisogna fare, non normalizzare la prostituzione con la partita IVA. E basta andare a vedere i paesi che hanno legalizzato la prostituzione e quello che è avvenuto. Una vera e propria depravazione. Ormai nelle case di prostituzione vanno i ragazzi, i giovani, a fare le feste di compleanno e ad avere rapporti con le prostitute. Siamo giunti a questo. Siamo, come dice Anna Rita Matera, alla fine dei tempi. Proprio così, carissima Anna Rita. Siamo alla fine dei tempi. Quando dovremo pagare, e perché purtroppo tutti ne pagheremo di queste cose, buoni e cattivi, i buoni chiaramente per la propria salvezza e per acquistare meriti, i cattivi all'ispiezione dei loro peccati, esse non si convertiranno per la propria dannazione. Ma quando si abbatterà l'ira di Dio concepita come conseguenza dei peccati commessi da questa umanità depravata, tutti soffriremo, soffriremo tutti. Che Dio ci scansia liberi dalle conseguenze più gravi di questa depravazione morale che è ormai divagante. La prostituzione costituisce una piaga sociale. Normalmente colpisce donne, ma anche uomini, puriamaci oggi, molto di più che nel passato anche l'uomini, bambini o adolescenti. Purtroppo anche i genitori ci sono, abbiamo visto alcuni casi che sono risaltati alla cronaca, di bambini venduti alla prostituzione da parte dei genitori e anche di adolescenti e ragazzi che per avere il pagamento di una scheda telefonica si sono prostituiti. Si prostituivano con i compagni per 5 euro nelle scuole, nei bagni delle scuole. Siamo arrivati a questo. In questi due ultimi casi il peccato è al tempo stesso anche uno scandalo. Cioè chi abusa di un bambino, veramente è meglio che si metta una macina d'asino al collo e si getti nel mare. Il darsi alla prostituzione è sempre gravemente peccaminoso. Tuttavia l'imputabilità della colpa può essere attenuata dalla miseria, dal riscatto e dalla pressione sociale. Una cosa è prostituirsi in una favela dove stai morendo di fame e per in qualche modo sopravvivere non puoi fare altro che prostituirti. E una cosa invece è prostituirsi per guadagnare dei soldi. L'imputabilità oppure una cosa è essere messi in prostituzione perché resi schiavi della prostituzione. E' una cosa farlo per piacere oppure come fanno alcune studentesse e ci sono stati veramente dei casi molto gravi con i professori per avere l'esame oppure per prendere un alto voto agli esami. Quindi l'imputabilità è diversa ma rimane sempre un peccato grave. Al punto del 1356 si parla dello stupro e abbiamo visto in questo tempo quanto sia aumentato lo stupro anche a causa, bisogna dirlo, degli immigrati. E sembra che quando questo abominevole peccato dello stupro venga compiuto da un italiano è grave, gravissimo. Quando lo compie invece un extracomunitario ma non è tanto grave perché i poverini sono abituati così nei loro paesi. Qui siamo alla follia. Qui siamo alla follia. Abbiamo perso il senso del rispetto della persona, della legalità, della legge, della violenza. Veramente è qualcosa di assurdo quello che sta avvenendo nel nostro tempo. Lo stupro indica l'entrata con forza mediante violenza nell'intimità sessuale di una persona. Esso viola la giustizia e la carità. Lo stupro lede profondamente il diritto di ciascuno al rispetto, alla libertà, all'integrità fisica e morale. Le donne veramente che hanno subito uno stupro se lo porteranno per tutta la vita con ferite psicologiche. Alcune di esse si sono suicidate. Rimangono con un sentimento di vergogna profondo, magari per tutta la vita. Molte non lo dicono. Moltissime donne ricevono violenza sessuale, specialmente sui posti di lavoro, e hanno vergogna di dirlo. Oggi c'è qualcosa in più da questo punto di vista che le donne denunciano, ma moltissime invece hanno vergogna di dirlo. Dunque arreca un grave danno che può segnare la vittima per tutta la vita. È sempre un atto intrinsecamente cattivo, tant'è che lo stupro viene usato solitamente anche come forma di arma di guerra, cioè per umiliare i vinti attraverso lo stupro. Ma coloro che commettono questo non capiscono che generano una vita, che quella vita generata poi sarà il loro figlio. E magari fanno abortire la donna facendo abortire il loro bambino. E davanti a Dio poi vedranno quello che sarà stato, quello stupro e quell'omicidio di quel bambino, che sarà gravissimo davanti al giudizio di Dio. Un genitore che ammazza il proprio bambino. È qualcosa di assurdo. Ancora più grave è lo stupro commesso da parte di parenti stretti, incesto, ad esempio dei genitori nei riguardi delle figlie, o dei fratelli nei riguardi delle sorelle, o viceversa. o di educatori ai danni degli allievi che sono loro affidati. Ma voi pensate che oggi si vuole legalizzare anche l'incesto? Anzi, in Germania, la illuminata Germania, l'incesto tra fratello e sorella non è più un reato. Tranquillamente, se vogliono i fratelli e le sorelle possano avere rapporti sessuali come se fosse normale, una cosa normalissima. anzi, adesso si cerca di legalizzare l'incesto come forma di matrimonio e dunque che i genitori possano sposare i propri figli e avere con loro dei figli, oppure i fratelli e sorelle si possono sposare fra di loro e avere figli. Questa è una vera e propria depravazione morale e sessuale e anche affettiva. Vengono sconvolti completamente tutti i legami parentali, tutte le relazioni parentali. Ecco, carissimi, si sono fatte le 23 e 3, quindi facciamo un momento di preghiera e concludiamo. A me non fa piacere, vi dico seriamente, parlare di queste problematiche perché sono qualcosa che non elevano l'anima, però dobbiamo veramente parlarne per guardarci per capire dove stiamo arrivando, anzi, dove siamo arrivati, perché ormai queste cose vengono normalizzate con le leggi statali, perché chiaramente i governanti dell'Europa hanno rinunciato al cristianesimo, hanno rinunciato al cattolicesimo, hanno rinunciato al Vangelo e ormai sono in balia del demonio e di una mentalità completamente depravata, perché l'uomo senza Cristo è nella tenebra. Tant'è che si sta facendo oggi quello che i pagani facevano già nel passato, adorando chiaramente delle false divinità che in realtà erano dei demoni. Tant'è che quando è stato aperto il passo del Gran Sasso, se non erro, non vorrei sbagliare, o del Gottardo, adesso non ricordo bene, insomma quella galleria che univa l'Italia con il resto dell'Europa, per i governanti che erano allora la Merkel, c'era Accelarenzi, c'era Holland, non so se c'erano altri, per inaugurare questo passaggio non hanno fatto celebrare una messa o chiamato un vescovo per benedire, no, hanno fatto una rappresentazione satanica, dove c'era un caprone che rappresentava Satana, gli operai che sembravano degli zombie e poi c'erano dei diavoli e c'era tutta una scenografia veramente diabolica, dove si stavano facendo dei veri e propri riti satanici. Ecco, a questo punto siamo arrivati, i governanti d'Europa che fanno un rito satanico per inaugurare un'opera pubblica. Io vi consiglio di non passare di là, perché quel passo ormai è stato maledetto, andrebbe benedetto da qualche vescovo e di passare per la vecchia strada, anche se si allunga un po' di più. Chi passerà di lì sicuramente riceverà qualche maledizione a causa di quel rito satanico che è stato fatto. Bene, carissimi, per questa sera abbiamo concluso, poi la prossima volta riprenderemo con castità e omosessualità un tema molto scottante e poi andiamo avanti, l'amore degli sposi e così via gli altri temi. Entriamo in preghiera, così un po' ci purifichiamo e ci illuminiamo la mente con la grazia di Dio, perché senza la preghiera l'uomo è in balia delle proprie passioni e delle tentazioni diaboliche, tant'è che domenica vedremo come Gesù, che è il figlio di Dio, verrà tentato da Satana. E se è stato tentato su lui, ma lui ha vinto Satana, figuriamoci gli uomini. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fai affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu, col divin potere, incatena nell'inferno, satene gli altri spiriti maligni, che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Ecco, qualcuno diceva di cosa si tratta. Dunque, si tratta del tunnel del Gottardo. C'è un bel articolo di Maurizio Blondette, che dice Il Gottardo consacrato a Satana. Leggo un pochettino l'incipit di questo articolo. Vi hanno partecipato le persone più potenti d'Europa. La cerimonia di apertura di un tunnel alla base del San Gottardo in Svizzera è stata un oscuro, inquietante rituale satanico. E' con lo sguardo a un'altra celebrazione delle elite occulte. Misura oltre 57 km ed è costato oltre 11 miliardi di euro. La galleria alla base del Gottardo è il progetto di tunnel più lungo e più costoso della storia del mondo. Il tunnel passa attraverso le Alpi Svizzere e ci sono voluti 17 anni per completarlo. Si dice che sia un simbolo di unificazione europea in un contesto di crescente nazionalismo e chiusura delle frontiere. Per festeggiare l'inaugurazione di questo tunnel, una cerimonia elaborata è stata rappresentata davanti a dignitari d'Europa, come il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente François Hollande della Francia e il primo ministro italiano Matteo Renzi. E' stata fatta una vera e propria consacrazione satanica di questo Gottardo e quindi chi passa di là riceve qualche maledizione. Vi consiglio di non passare o se siete costretti a passare di andare con sacramentali, olio esorcizzato, acqua santa, sale esorcizzato e di farvi un bel po' di rosari mentre lo attraversate. Perché lì si prendono veramente delle maledizioni. Carissimi, vi saluto per questa sera e vi auguro ogni pace, benedizione e grazia affinché in questo tempo veramente dove il satanismo sta imperando possiamo essere difesi dalla potenza del cuore misericordioso di Cristo, del cuore immacolato di Maria, di San Michele Arcangelo, di tutti gli angeli e di tutti i santi. Il Signore sia con voi. Vi benedica a Dio Onnipotente. Vi libero ogni male, maleficio, maledizione, sortelegio, incantesimo, fattura, legatura, stregoneria, invidia, gelosia, odio, rancore, malocchio, ogni forma di male occulta dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale, fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia aggiungere la gioia eterna del Paradiso insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.